La S-Gaglianico 74 invita gli amanti della corsa su strada alla quindicesima edizione della Due Santuari Running, in programma venerdì 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica. Il percorso è quello classico di 19,8 km che unisce due punti cardinali del territorio biellese. Il santuario di Graglia è quello di Europa, lungo la balconata mozzafiato della strada del Tracciolino. Sono circa 400 i metri di dislivello positivo complessivo, quasi tutto nella prima parte di gara in Vallelvo, poco dopo il Santuario Lauretano. Il tempo massimo per percorrere il tragitto è di tre ore. Le iscrizioni online si sono chiuse martedì sera e prevederanno la distribuzione dei pettorali dalle 7.30 alle 9.15 di venerdì sul luogo di partenza. Sarà in ogni caso possibile iscriversi anche il giorno stesso della gara, nel medesimo orario appena indicato al Santuario di Graglia in segreteria. Il pacco gara dell'evento garantisce ai primi 200 iscritti una maglia tecnica e alcuni prodotti tipici locali. Per quanto riguarda i premi, ai primi tre assoluti, uomini e donne, buoni benzina da 100, 70 e 50 euro. Un monte premi di circa 1000 euro in cesti alimentari verrà invece suddiviso tra i migliori delle categorie d'età previste, da PS a S70+. Il trofeo Memorial Jean-Marc Mosca verrà assegnato alla prima società della classifica punti. Saranno premiate anche la seconda e la terza società classificate. A termine gara tutti i partecipanti avranno diritto a un ristoro, sempre con prodotti del territorio. Sono previsti tre punti per dissetarsi lungo il percorso. Questo sarà parzialmente chiuso al traffico veicolare. Auto e moto non potranno spostarsi direttamente dal Santuario di Graglia a quello di Europa, in quanto la strada provinciale 512, il tracciolino, è chiusa a causa lavori. Gli atleti percorreranno, nel tratto interessato, un ponte pedonale provvisorio. Quest'anno l'evento, parallelo al Running, ovvero la Due Santuari Trail, gara che si snoda sulle pendici e sui boschi delle prealpi biellesi, non verrà disputato.